Le modifiche al decreto sul superbonus volute dal governo Meloni rischiano di causare effetti devastanti, soprattutto in Sardegna. Lo denunciano i sindacati dei lavori dei settori dell'edilizia, pronti a scendere in piazza il 1 aprile con il sit-in Fai la cosa buona per chiedere una revisione del provvedimento, che escluderebbe la possibilità, per i redditi bassi, di accedere agli incentivi previsti per la messa in sicurezza degli edifici, l'efficienza energetica e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono provvedimenti che in tutta Italia hanno un effetto devastante, ma lo hanno in particolare nella nostra isola perché il PIL rappresentato nel settore delle costruzioni è elevato rispetto agli altri territori. I dati forniti da CGL e Will parlano chiaro. Nel 2022 il superbonus ha prodotto in Sardegna 10.000 occupati in più, il 2,2% del totale dell'occupazione regionale, con una percentuale superiore alla media nazionale. Non solo, l'isola registra un incremento del PIL di 1,8% sul 3% totale. Significa che il 60% della crescita del PIL Sardo è riconoscibile ai lavori di riqualificazione incentivati col superbonus. Quello che chiediamo è ovviamente lo sblocco immediato sugli sconti in fattura e la cessione dei crediti per rimettere in moto l'economia e cercare di trovare degli equilibri. Bisogna agevolare l'accesso a questa misura degli incapienti e delle fasce più deboli, anche ai fini dei processi di rigenerazione urbana che sono importanti. Il rischio, secondo i sindacati, è quello di provocare una brusca frenata e un pericoloso crollo di fiducia, una bomba a orologeria che si scaricherà sulle spalle di lavoratori, famiglie e imprese. Al corteo del 1 aprile, che partirà dal parco di Molentargius, parteciperanno anche Lega Ambiente, la Federazione degli Ordini degli Architetti e ADOC.